La stragrande maggioranza dei rispondenti al sondaggio della tecnica della scuola per un totale di 1.803 partecipanti si dice contraria alla formula concorsuale della prova scritta risposta multipla. Parliamo del 75,7% di chi ha preso parte al concorso ma anche dell'82,8% di chi non vi ha partecipato. Segno che il concorso così semplificato non piace né ai diretti interessati né alla popolazione scolastica in generale. In sintesi 8 su 10 dicono no poiché percepiscono questa formula come nozionistica. Nel nostro sondaggio i tanti docenti che non hanno partecipato al concorso ordinario secondaria rappresentano il 41,7% di risposte. Tra chi ha effettuato la prova il 38,4% ha partecipato per la scuola secondaria di primo grado il 19,9% per la secondaria di secondo grado. Interessante notare che il trend di chi ha superato la prova scritta e si prepara dunque ad affrontare l'esame riflette le stime nazionali riportate da diverse fonti. Appena due candidati su dieci pare abbiano superato l'esame. Gli insegnanti precari naturalmente rappresentano la maggioranza dei rispondenti, il 54,9%. Grazie a tutti.